Contiene ancora dell'olio, anche dopo tutti questi secoli. Un antico simbolo dell'acqua a forma di serpente, l'immagine della vita e dell'infinito. Senza dubbio serviva come una specie di porta primitiva, ma come faccio ad aprirla? Il simbolo di pericolo di morte. Il rilievo del dio delle acque, molto ben conservato. Probabilmente conteneva dell'acqua, chissà. Qualsiasi cosa ci fosse, non c'è più. Ehi! Piano, sono qui! Mi serve dell'acqua. Ti calo la mia borraccia, dammi un momento per legarla alla corda. No, non ho sete. Mi serve molta più acqua. È un solo questa, cosa facciamo? Portane un po' dal fiume con quel secchio. Cosa? Dovrei trascinarla per tutta quella strada. Se non lo fai, siamo bloccati. Niente acqua, niente oro. Ok, allora. Maledizione. Aspetta qui, arrivo subito. Sono tornato. Mi senti laggiù? Era ora. È abbastanza distante. Perché non ci vai tu la prossima volta? Calma, avrai la tua ricompensa. Forza, cala il secchio. Attento alla testa, arriva! Ma ora devo riposarmi. O potrei non riuscire a portare via tutto l'oro. Ti chiamerò ancora se mi servirà qualcos'altro. L'acqua che Pedro mi ha portato dalla piscina vicina al tempio. L'ho riempito d'acqua. Qualsiasi cosa ci fosse, non c'è più. Sembra che qui manchi qualcosa. Proverò a improvvisare. Mi serve altra acqua. Pedro, vieni. Novità? Sì e no. Mi serve altra acqua. Cosa? Cosa diavolo ne hai fatto di quel secchio? Mi serve solo altra acqua, va bene? Ah, va bene. Ma questa volta sarà meglio che non la sprechi. Non sono un mulo. D'accordo, basta che tu la vada a prendere. Ehi là! Sono tornato! Ecco l'acqua. Ma è l'ultima che porto. Mi sono quasi ammazzato con tutto quel buio. Basta con l'acqua. Basta con l'acqua, va bene. Eh, sono felice di sentirtelo dire. Ora levati di torno, sto calando il secchio. L'acqua è uscita da qui ed è scomparsa tra le pietre. Ehi! Che c'è? Ho bisogno del gesso, ne ho visto un po' al campo. Gesso? E cosa diavolo te ne vorresti fare? Prendilo e basta, va bene? Ok, ok, torno subito. Oh! Ho il gesso per te. Bene, buttalo giù. Ma stai attento a farmelo prendere al volo. Non preoccuparti. È pesante, piena di gesso. Il gesso è pronto all'uso. No, è pesante. No, non preoccuparti. No. No. Lo... Io! L'ho riempito d'acqua. Non è successo nulla, forse serve altra acqua. Psst, ehi! Mi serve qualcosa. Mi serve, beh, dell'altra acqua. Non se ne parla. Se mi tocca tornare laggiù un'altra volta, dovrai iniziare a scavarmi una fossa. Senza acqua non possiamo andare avanti, non posso farci niente. Non potrò arrivare a tutti quei tesori. Va bene, va bene. Lo sai che l'oro mi mette in moto, non c'è proprio bisogno di ricordarmelo. Porterò dell'altra acqua, ma è assolutamente l'ultima volta. Ma cosa diavolo ho fatto per meritarmi tutto questo? Ecco, ho portato l'acqua, ma ormai non mi reggo quasi più in piedi. Questo... questo è tutto. Ho chiuso con l'acqua, capito? Chiuso! Sì, questa comunque dovrebbe bastare, grazie. Come grazie? Calma, adesso è di nuovo il mio turno. Spero proprio che ne valga la pena. Puoi tenere i tuoi ringraziamenti per dopo. Spero... 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 L'ordie Eccoci, fantastico!